Ciao, oggi realizzeremo insieme un prodotto molto molto originale che può essere utilizzato per moltissimi scopi e la realizzazione di questo prodotto ci darà l'occasione per imparare qualcosa di più sui colori. Per prima cosa andiamo su una presentazione vuota, può essere presentazione ma può essere veramente qualsiasi altra cosa, ci interessa semplicemente avere una pagina bianca. Prima di cominciare chiariamo subito un aspetto che riguarda i colori. Quando parliamo di colore normalmente noi intendiamo un colore pieno. Cosa significa? Significa che se io prendo una forma, so già che basta andare su questo quadratino, cliccare e posso mettere questa forma nel colore che voglio. Vedi che questo è un colore pieno, cioè un colore compatto che non ha sfumature. Io però ho la possibilità in Canva di utilizzare anche colori gradienti. Cosa significa? Significa che non sono colori come questo, compatto, ma sono colori sfumati. Possono sfumare fino a sparire, possono sfumare in un colore diverso. Facciamo un esempio. Se io vado su elementi e scrivo gradiente e vado nelle grafiche, vedi che io qui ho una scelta di colori che non sono compatti. Vedi che differenza? Prendiamone uno, ad esempio questo. Questo colore parte da una tonalità e poi si schiarisce fino a praticamente sparire. Quindi è un gradiente nel senso che è un colore che sfuma. Io posso anche avere un gradiente che, come in questo caso, vedi, parte da un certo colore e sfumando, cioè mettendo insieme, mettendo vicino l'uno all'altro colori di tonalità simili, arriva a un altro colore. Devo prenderli così come sono? No, tu sai, ormai l'hai imparato, che c'è il trucchetto del contagocce, per cui io seleziono il mio gradiente, vado a cliccare sul colore che voglio modificare. Vedi che qua ci sono due quadratini. C'è il colore di partenza, che è questo viola, e quello che potremmo chiamare il colore di arrivo, che è il bianco. Noi abbiamo detto che sparisce perché lo sfondo è bianco. In realtà, semplicemente, noi abbiamo due colori, il viola e il bianco. Io clicco sul viola perché voglio modificare il viola e lo voglio far diventare invece un gradiente, ma di questo giallo intenso. Allora, apro lo schema dei colori, prendo il mio contagocce, gli dico voglio questo giallo qua, ed ecco quello che è successo. Ho deciso io il colore che mi serviva. La stessa cosa posso farla anche su questo tipo di gradiente che non finisce nel bianco, ma che utilizza due colori diversi. Vedi che se io seleziono questo gradiente mi viene fuori il turchese di partenza e il viola di arrivo. Stessa cosa io gli dico contagocce, voglio partire da questo giallo, ed ecco che io ho cambiato il mio colore di partenza. Avrei potuto fare la stessa identica cosa scegliendo di cambiare il colore di arrivo o cambiandoli entrambi. Ormai sai come funziona lo strumento del contagocce. In che modo noi possiamo utilizzare questa possibilità che ci viene offerta da Canva? Creando delle immagini partendo da una fotografia, ad esempio. Guardiamo un po', aggiungo una pagina sempre bianca, vado su caricamenti e gli dico di caricare una mia foto, questa. Questa è una foto che ho fatto io, quindi non ho nessun problema di diritti d'autore, bla 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 bla. Ecco qua. Benissimo. Che cosa posso fare io adesso con questa foto? Intanto l'allargo fino ad occupare i due terzi di questa pagina. Dovrò decidere che cosa tagliare. Ecco, ma in questo caso posso ottenere tranquillamente tutta l'immagine. Dopodiché vado su elementi, abbiamo detto gradiente, grafiche, scelgo questo che è trasparente, lo posiziono qui in alto, poi decido quale colore della foto voglio utilizzare. Vado sul quadratino dopo aver selezionato il gradiente, apro i colori, prendo il contagocce e gli dico che voglio questo colore qua. Ecco qui. Allargo fino a toccare il bordo inferiore, torno su forme, automaticamente mi viene data una forma dello stesso colore che io ho usato per ultimo, in qualsiasi caso, se così non fosse, basta andare sul quadratino e il colore che hai usato comparirà tra i colori del documento. Bene. Allargo la forma fino a farla coincidere con la mia immagine. Per sicurezza raggruppo, non si sa mai, ed ecco il risultato del mio lavoro. Io ho creato una pagina che parte da un colore compatto, il colore sfuma e compare una immagine che ha come colore prevalente quello che io ho scelto all'inizio. Ovviamente io lo posso fare con qualsiasi tipo di colore, qualsiasi tipo di immagine. Vediamo velocemente un paio di altri esempi. Prendo una pagina nuova, io ho già caricato altre due fotografie, elementi. Abbiamo già lavorato sui gradienti e quindi lui mi riporta quello che io ho utilizzato negli usati di recente. Lo appoggio, cambio il colore, questa volta prendo il colore del fiore, apro e poi forma. Vedi che mi dà lo stesso colore già pronto e perché ho scelto questa immagine? Ho scelto questa immagine per farti vedere che bisogna stare molto attenti alla fotografia che si decide di utilizzare. La fotografia precedente si adattava molto meglio perché era una fotografia prevalentemente orizzontale, invece questa che era in verticale, allargandola molto, praticamente viene coperta in parte dal gradiente. Quindi fai pure degli esperimenti ma non badare solo al colore, cerca anche di vedere quale fotografia è più adatta. Vediamo un ultimo esempio. Ecco questa già si adatta molto di più perché io posso allargarla e mi occupo gran parte della pagina. Diciamo che questa parte non dovrebbe essere più larga di così perché il lavoro venga bene. Torno sui miei elementi, prendo il mio gradiente, questa volta gli dico di prendere il giallo. Ecco qua. Ecco in questo caso direi che proprio questo arancione non va bene. Allora io vado qui apro e gli dico voglio questo verde qua che se ci fai caso è lo stesso che era già qui nel documento. Volevo farti vedere che lui aveva già comunque messo il colore giusto. Questo risultato è decisamente meglio. Per che cosa posso utilizzare una pagina di questo genere? Ma per mille cose. Posso utilizzarla ad esempio se io aggiungo un testo. Ovviamente renderò la scritta più familiare. Questa ad esempio. Posso allargare un po'. Ecco qua. Tieni presente che io questa immagine potrei anche stamparla. Stamparla e farne un vero e proprio bigliettino. In che modo? Rimpicciolendo la scritta e spostandola più in qua in modo che una volta stampato il mio biglietto io lo posso piegare a metà e all'interno rimarrà la parte bianca del foglio dove posso scrivere tutto quello che voglio. Ma può anche diventare la copertina di una presentazione digitale per scienze. Io aggiungo un titolo di questo tipo. e io ho preparato la copertina di una presentazione che dalla pagina successiva utilizzerò per spiegare la mia il mio approfondimento di scienze. Voglio farti vedere che è possibile creare una pagina non solo partendo da fotografie che hai scattato tu ma prendendo anche fotografie che che si trovano qui in Canva. Facciamo un esempio. benissimo vedi che ho lasciato soltanto una minima parte e poi inserirò un gradiente nero grigio vado a prendere vado a prendere questa parte lo allargo poi qui metterò decisamente non una forma verde ed ecco fatto. Vedi che non si nota minimamente il passaggio cioè se ci passi sopra col mouse lo vedi ma altrimenti non si vede alcun passaggio di colore. Adesso realizziamo con questo meccanismo una copertina che invece potrebbe essere destinata ad essere stampata perché magari diventa la prima pagina di un lavoro cartaceo. vado su l'home page questa volta prendo un documento a quattro perché un documento a quattro perché se ho intenzione di stamparlo questa è la misura giusta della mia della mia pagina della pagina che poi sarà abbiamo detto la copertina di un lavoro cartaceo. vado su caricamenti e carico dal mio computer l'immagine che ho già preparato di un dipinto molto famoso di Friedrich ovviamente scelto con una licenza che mi permette di utilizzarlo perché devo fare la copertina di un lavoro su delle poesie di Leopardi e questo dipinto secondo me ci sta eccolo qui è famosissimo lo conoscerai anche tu e lascio questa parte in alto così. Questa volta il mio gradiente partirà dall'alto ovviamente. Una volta che hai posizionato la tua immagine nel foglio in questo caso siccome voglio rendere più scura questa questa copertina scelgo uno sfondo nero e poi vado a prendere il mio gradiente che ormai abbiamo imparato a conoscere. Attenzione però perché devo capovolgerlo di 90 gradi perché adesso il colore deve sfumare in senso verticale dall'alto verso il basso e non più orizzontalmente perché ho cambiato la dimensione e la struttura della pagina. Appoggio qui il mio gradiente perché in realtà questo noi l'abbiamo già messo. Ti ricordi? Questo sfondo equivale alla forma di colore pieno che nella pagina che abbiamo visto dei fiori aggiungevamo alla fine sulla sinistra. Adesso ce l'abbiamo già quindi io non faccio altro che andare a modificare il viola e dirgli mettimelo nero dopodiché allargo come al solito il mio gradiente fino a che non va a toccare i bordi della pagina ed ecco il risultato. Cioè io ho uno sfondo nero ma non ho più lo stacco vedi che ci sarebbe stato qui tra l'immagine e lo sfondo della pagina. Ho un tutt'uno. Anzi per essere sicura lo raggruppo perché così adesso sono sicura che non posso spostare niente. Dopodiché aggiungo il testo gli cambio il colore perché qui adesso sarà un grigio molto molto chiaro se no non risalta. Uso sempre queste linee vedi che mi permettono di inserire la scritta nel posto giusto a metà. Se voglio il cambio il font aggiungo un sottotitolo cambio sempre il colore perché ovviamente deve essere dello stesso colore che abbiamo usato prima e lo piazzo. Volendo raggruppo anche questo tanto per essere sempre sicuro ed ecco il risultato del mio lavoro. Con questo sistema riesci a eliminare i punti di raccordo tra la pagina e gli elementi che inserisci. Spero di esserti stata utile e spero di trovarti al prossimo tutorial in cui parleremo ancora di colore e di effetti originali che possono essere utilizzati. Per ora ti saluto e ti auguro buon lavoro. Alla prossima!